... ... ... ... Papa, scusami ancora, c'è un film che si chiama ... ... Anthony, l'adulterio in pratica è un tradimento Ad esempio, se mentre noi siamo qui al centro commerciante ... la tua mamma scopla con lo tiro questo è un adulterio lo capisiste? sì grazie papà l'ultima cosa che non ho capito cosa vuol dire mitigare mitigare vuol dire alleviare o meglio calmare sentone prendete l'ora e batte da quello delle patatine papà va bene però ti posso chiedere un'ultima cosa? cosa vuol dire inumazione? inumazione vuol dire Ferrara sai cosa vuol dire inumazione? non mi coinvolga perché non c'è inumazione e non voglio essere coinvolto Anthony io adorato mi chiede che il papà me deve dire una cosa ecco questo è un calcio nel culo la prossima cosa che non compri le patatine quando patatine tu dici ti prende a botte le caratterie sulla testa hai capito? io sogno pata e con me il centro commerciale non viene più adesso telefono subito la fama non c'è inumazione 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 pronto? pronto? eh? sogna frango che parla? sogna frango frango geranio anche voleva dire io andrò andrò nel romoporto chiore conmiglia che mi faccia morne sciopaccio ho capisciatevo? cos'è che parla? sogna frango frango geranio e non è possibile che questo figlio è così pesante o mandiamo a scuola almeno si calmano un poco che io sogno pazza non puoi possedere ho capisciatevo? ma dimmi così sogna frango frango geranio di vibbo di vibbo? sì e che io faccio di vibbo no? ma io ho capito ma io c'è di te e non mi posso chiudere conmiglia ma così dimmi così non mi conosci? ma te faccio così figlia o figlio? ma figlio andrò non mi conosci no no ti conosci ma che che me sta facendo nascere pace? è così dimmi così figlio io so il mio figlio e ne godemo e ne godemo ma tu pazzo sta dicendo pazza ma ti buono è rotto raggio che cazzo è un betone non è pronto? stagliato così per l'italiano all'angolo no no è cavale 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 Grazie a tutti.